Ciao a tutti gli appassionati di orologi! Come vi dicevo in almeno due miei video precedenti, la moda degli sportivi anni 70 con bracciale integrato ha influenzato parecchio le scelte di moltissimi marchi, praticamente in ogni fascia di prezzo. Alcuni produttori non hanno potuto fare altro che creare dei modelli partendo da zero, dato che in passato o non esistevano ancora o non avevano mai inserito a catalogo degli orologi di questo genere. Altri però hanno puntato sulla riedizione di loro referenze vintage, ridando vita a dei design ormai archiviati. Nivada Granken, che dal rilancio ha costruito gran parte della sua attuale fortuna sulla riedizione di referenze storiche, a inizio 2023 ha presentato il nuovo F77. L'approccio nel riproporre questo design in chiave moderna è stato molto conservativo, dato che persino il diametro è rimasto lo stesso dell'orologio presentato nel 1977. Il primo lotto di produzione è andato esaurito nel giro di pochissimo tempo e quindi per mesi il nuovo F77 è stato praticamente introvabile. Da settembre in poi è stato reso disponibile un nuovo lotto, decisamente più cospicuo del precedente, e finalmente ho avuto la possibilità di provarlo in modo approfondito. Scopriamolo insieme! Il corredo è quello tipico di Nivada, ma ogni volta è piacevole notare come il marchio personalizzi non soltanto la fascia esterna in cartone che tiene chiusa la scatola, ma anche il rivestimento interno del coperchio. Qui si trova anche la piccola card della garanzia. Il nuovo F77 è disponibile in blu e in nero fin dalla sua uscita, ma con l'arrivo del nuovo lotto è stata introdotta anche una terza colorazione marrone fumè, molto interessante. Tutti possono essere scelti con o senza la data. Esiste poi anche un'edizione speciale azzurra fumè, creata in collaborazione con il negozio francese Ocarat. La tonalità di blu è leggermente diversa da quella che avevo immaginato guardando le foto sul sito ufficiale, ma è comunque molto bella. La lavorazione a trame intrecciata, già presente sull'F77 Vintage, rende più elaborato il quadrante e gli dà una buona tridimensionalità. La grafica è praticamente analoga a quella storica, marchio in alto con logo applicato e nome del modello in basso con la scritta Automatic. Sulla riedizione moderna è stata abbandonata l'indicazione del giorno della settimana, presente invece sul modello del 1977. La finestra della data è circondata da una bella cornice lucida e il disco è a sfondo nero. Gli indici applicati sono sfaccettati e con finitura lucida e quelli a ore 6, 9 e 12 sono doppi per avere maggior risalto. Anche sulle sfere a bastone c'è una finitura lucida di buon livello e le lancette di ore e minuti sono divise a metà da una linea nera. Lo spazio a disposizione della pasta luminescente è piuttosto limitato e in effetti le prestazioni al buio non sono eccellenti, soprattutto per quanto riguarda le sfere che tendono a svanire nel giro di poco tempo. Però in fin dei conti questo non è un diver. Il vetro è un bellissimo zaffero boxed con trattamento antiriflesso sul lato interno che funziona piuttosto bene nel tenere sotto controllo i riflessi più fastidiosi e anche nel valorizzare a dovere la trama del quadrante sottostante. La leggibilità ad angolazioni estreme resta molto buona, a parte la normale distorsione in corrispondenza del bordo. Nel 1977 Nivada aveva deciso di omaggiare in modo abbastanza evidente il Royal Oak a livello della lunetta, che anche sulla riedizione dell'F77 si distingue subito sia per la sua forma ottagonale che per le otto viti. A parte questo dettaglio, che comunque ha delle proporzioni molto diverse, visto che qui la lunetta è molto meno massiccia, la cassa ha linee completamente differenti e molto originali, in particolare nella zona delle anse, con delle evidenti faccette oblique di forma triangolare ai lati e l'andamento spiovente per raccordarsi al bracciale. Le finiture sono molto curate, con stacchinetti tra le bellissime satinature e i dettagli lucidi, sia sulla lunetta che sulla cassa. La carruire sui fianchi è lucida, un dettaglio in linea con i modelli vintage, anche se forse l'avrei preferita satinata perché avrebbe fatto risaltare ancora di più le faccette sulle anse. Anche la corona a ore 3 è lucida, con il logo in rilievo ed è a vite, un dettaglio che dà un po' di sicurezza in più nel caso in cui si voglia utilizzare l'F77 in modo più sbarazzino. La filettatura è molto precisa e non presente in puntamenti, ma il serraggio è abbastanza duro. Il fondello a vite riporta nel medaglione al centro il logo di Nivada in rilievo, accompagnato dal nome del modello. Non è una decorazione particolarmente elaborata, ma è comunque un fondello gradevole e ben realizzato. Tra le varie informazioni incise è presente anche il dato sull'impermeabilità fino a 10 atmosfere di pressione, una specifica che, unita alla corona a vite, rende l'F77 un orologio molto versatile. Se arrivate a questo punto e il video vi sta piacendo lasciatemi un bel like. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e perché no attivate anche la campanellina delle notifiche. È una cosa molto utile per me, ma soprattutto utilissima per voi per evitare di perdervi tutti i miei prossimi contenuti. All'interno c'è il calibro Soprod P024, di cui avevo già parlato in passato. Si tratta sostanzialmente di un clone dell'ETA 2824, di cui ricalca anche la scheda tecnica, con 28.800 alternanze all'ora, riserva di carica di 38 ore, possibilità di ricarica manuale e fermo macchina. Non mi è ancora chiaro se i componenti siano totalmente compatibili con il 2824 standard e se ci sono degli orologiai competenti in ascolto possono scrivermelo nei commenti qui sotto. Su questo esemplare comunque ho rilevato uno scarto medio nell'ordine di più 11 secondi al giorno. Il bracciale ha un design semplice che ricorda un po' l'Oyster, anche se le prime maglie sono molto diverse, con elementi laterali più larghi per raccordarsi meglio alla cassa. Rispetto ai bracciali di altri orologi gentiani in questa fascia di prezzo, pur mantenendo un buon livello di solidità, è tra i più leggeri. Le maglie sono tenute insieme da perni a vite e sono molto flessibili le une sulle altre. Nivada ha poi migliorato enormemente la chiusura rispetto a quella che avevo trovato sugli altri modelli recensiti. Qui i bracci interni sono ricavati dal pieno e, soprattutto, la scatoletta ha i pulsanti laterali di sgancio. Certo, la soluzione è meno elegante rispetto alla doppia deployant presente sulla maggior parte degli orologi di questa tipologia, ma è molto più pratica grazie ai fori per la microregolazione, che sono addirittura 7. Il Nivada F77 dà la sensazione di essere meno spesso di quanto viene riportato sulla scheda tecnica, merito degli oltre 2 mm occupati dal vetro e dalla carrure sottile. Però dà anche l'impressione di avere un ingombro da ansa ad ansa maggiore di quello che il diametro lascerebbe intendere, e questo dipende in gran parte dal modo in cui il bracciale si raccorda alla cassa. In ogni caso è un orologio comodo da indossare, che trovo perfetto persino io che di solito non amo i modelli troppo piccoli. Il diametro è di 37 mm, la distanza da ansa ad ansa è di 44,8 mm, ma se si considerano l'esporgenza delle prime maglie del bracciale si arriva a 50,1 mm. Lo spessore è di 11,6 mm compreso il vetro e il peso con il bracciale regolato per il mio polso da 16 cm è di 117 grammi. Il ritorno sul mercato dell'F77 è un fatto certamente positivo per tutti quelli che, come me, amano le linee anni 70 e magari vogliono un modello meno comune e più ricercato. Il livello delle finiture è molto alto, superiore a quanto ho potuto riscontrare finora sulle altre referenze di Nivada che mi è capitato di provare. Il bracciale è molto comodo e consente una regolazione fine che su tanti competitor manca. Il movimento è ancora poco presente sul mercato, ma dovrebbe essere comunque affidabile e nel mese in cui l'ho testato non mi ha mai riservato brutte sorprese, manifestando tra l'altro una certa costanza nella marcia. In Italia, negli ultimi mesi, alcuni negozi sono diventati concessionari ufficiali di Nivada, un fatto certamente positivo per tutti quelli che prima di un acquisto vogliono provare al polso l'orologio. Il listino ufficiale del Nivada F77 con o senza la data è di 1390 euro. E voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Spero che questo mio contenuto vi sia piaciuto, nel caso non dimenticatevi di lasciarmi un bel like e noi ci vediamo presto con un altro video. Grazie. 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 Grazie.